Ciao a tutti, oggi un nuovo video, siamo tornati dalle vacanze, oggi è il 2 di gennaio e anzi ditemi come vi sono andate queste vacanze natalizie, se vi siete riposati, che cosa avete mangiato scriveteci qualcosina nei commenti che siamo molto curiosi e noi ci siamo proprio rilassati infatti come avete visto non abbiamo pubblicato proprio nell'ultimo periodo molti video ma vi promettiamo che ci faremo perdonare perché abbiamo in serbo davvero davvero tante novità, tanti video carini e oggi dato che a gennaio si inizia sempre con tanti buoni propositi, tanto è impossibile, è più forte di noi e scommetto che come me anche voi ogni primo gennaio dite ok quest'anno farò questo, questo, questo e questo comunque iniziamo con 10 consigli per iniziare a mangiare più sano senza parlare di diete drastiche, cose di questo genere che a noi non piacciono vi parliamo invece di come iniziare a seguire un'alimentazione più sana che fa sicuramente bene e meglio di tante altre diete ed è una cosa per tutta la vita, non è soltanto per il primo gennaio e qualche altro giorno non dovrà durare poco ma dovrà durare per sempre, sono tutti quanti consigli facilmente applicabili pensati un po' per tutti, sia chi è proprio all'inizio e non ha ben chiaro come iniziare a cambiare alimentazione e sia per chi magari anche ci conosce tramite il canale sa già un pochino dove mettere le mani però vorrebbe impegnarsi un po' di più quindi iniziamo subito, io come al solito mi sono scritta tutto, se no mi dimentico e iniziamo il primo consiglio che abbiamo scritto nella nostra lista è quello di convincere la famiglia se riuscite a convincerli di iniziare a cambiare alimentazione, iniziare a introdurre magari più verdura, più frutta, alimenti più sani è sicuramente meglio dell'affrontare un cambiamento da soli, sia perché si è più motivati se una cosa si fa insieme è sicuramente più divertente, più leggero, più stimolante, motivante il prossimo consiglio è quello di ovviamente fare una spesa ragionata, quindi comprare alimenti sani ho scoperto l'acqua calda, però è verissimo perché se in dispensa abbiamo schifezze, alimenti che non fanno proprio bene, patatine fritte e cose di questo genere saremo un po' più portati a spizzicarli, magari quando abbiamo fame anziché aprire il frigo farci, che ne so, yogurt con un po' di granola e cereali, un po' di frutta fresca aprire, ci sono le patatine fritte, mi mangio queste, quindi se in dispensa questi alimenti non ce li abbiamo e quando andiamo a fare la spesa non li compriamo, sicuramente non li mangeremo andiamo avanti, il prossimo consiglio è quello di affrontare un cambiamento, un passetto alla volta e questo secondo me è una regola da applicare a tutti quanti i cambiamenti se dall'oggi al domani decido di stravolgere completamente la mia alimentazione introducendo alimenti che prima non mangiavo di frequente, magari neanche mi piacciono tantissimo perché non ci sono abituate, il mio palato ancora non ci è abituato e sicuramente sarà un cambiamento che potrebbe durare molto poco perché il nostro corpo, la nostra mente tenderà a mollare molto più, facilmente molto più in fretta se invece il cambiamento viene affrontato un passetto alla volta magari conquistando dei piccoli obiettivi, che ne so, anche semplicemente fare colazione con un po' di frutta quindi ogni giorno mi sveglio e inizio a fare colazione con un po' di frutta al posto della brioche, vi faccio un esempio proprio banale ma va benissimo dopo quando l'avrò acquisita come abitudine sarò sicuramente più spronato ad andare avanti se invece io dall'oggi al domani inizio a stravolgere tutto sarà molto più difficile quindi un passetto alla volta prossimo consiglio è quello di scrivervi giorno per giorno che cosa andate a mangiare lo potete fare semplicemente con un foglio di carta, un quadernino e scriverlo a mano oppure sul cellulare, adesso ci sono tantissime applicazioni e avendo più o meno una panoramica di quello che mangiate riuscite voi stessi già a capire dove ci possono essere degli sbagli dove ci possono essere delle carenze perché poi basterà rileggere e magari vi rendete conto che in una settimana avete saltato quasi sempre la merenda avete fatto pochissima merenda o cose di questo genere magari avete mangiato tantissimo a cena e a pranzo pochissimo cose che giorno per giorno quando viviamo la quotidianità in realtà non ci rendiamo sempre conto e qua mi attacco all'altro consiglio che avevamo pensato che avevamo messo in lista che è quello di andare dal nutrizionista non dovete spaventarvi, pensare oddio adesso il nutrizionista mi farà una dieta non riuscirò mai a seguirla invece dovete andarci con uno spirito di diverso di aiutami a capire bene che cosa devo mangiare e come devo mangiarlo sul mio corpo perché ovviamente noi questo discorso non lo possiamo fare e l'alimentazione è una cosa molto personale e molto soggettiva il nutrizionista mi potrà dare quindi delle linee guida da rispettare non una dieta con 50 grammi di pasta a pranzo, 30 grammi di formaggio io sono la prima che non riuscirebbe mai a starci dietro ecco non mi viene ora il termine preciso e qui se noi abbiamo tenuto conto della nostra alimentazione ce lo siamo scritto possiamo andare dal medico con il nostro quadernino e potrà lì vedere bene qual è la nostra alimentazione potrà di sicuro aiutarci molto di più prossimo consiglio, questo forse è più un trucchetto che un consiglio impariamo a presentare anche per noi stessi i piatti in maniera più golosa e in maniera più bella perché l'occhio vuole la sua parte è una frase ormai straconosciuta però è verissimo se noi mangiamo un piatto che si presenta male si presenta brutto, triste e insipido sicuramente non saremo entusiasti di mangiarlo se invece lo presentiamo in modo carino basta veramente poco, non dovete diventare grandi chef dell'impiattamento se comunque lo presentiamo in modo più carino, più attraente saremo più predisposti a gustarcelo ma parlo di cose semplicissime fate un estratto di frutta e verdura magari mettetelo in un bel bicchierone in un contenitore di quelli che vanno di moda adesso con sopra il tappo bucato per la cannuccia o un bel bicchiere, comprate delle bottigliette carine insomma cose piccole fate un'insalata, mettete sopra un po' di semini che vanno allegria, giocate con i colori cose davvero banali ma vi assicuro che fanno totalmente la differenza anche quando faccio ad esempio la cena mi piace sempre impiattarlo che ne so, faccio le polpettine con un po' di patate e un'insalatina di carota julienne allora mi piace impiattarle nel piatto mettere tutte quante le polpettine disposte un po' a cerchio poi fare un mucchietto con l'insalatina di carotine qualche semino, le patatine da una parte cose veramente banali però fanno un sacco di differenza prossimo punto è quello di organizzarsi parlo soprattutto del menù settimanale e di conseguenza la lista della spesa soprattutto se lavoriamo è davvero molto molto utile avere una pianificazione della settimana di quello che dovremo preparare e mangiare quindi vi potete mettere la domenica e tirarvi giù appunto il vostro menù settimanale non è nulla di complicato io prestissimo vi garantisco e vi prometto che farò un video a parte sul come costruire il menù settimanale quindi bene qualche regolina scritta cose un attimo più precise in modo da potervi aiutare meglio però potete iniziare scrivendo lunedì, martedì, mercoledì tutti quanti i giorni della settimana e scrivendo che cosa potete mangiare a pranzo e a cena non è molto difficile vi porta via pochi minuti ma vi garantisco che poi durante la settimana in cui ci sono mille cose a cui pensare c'è il lavoro, c'è la casa da portare avanti di certo pensare anche a che cosa fare a pranzo e a cena è un po' uno sbattimento soprattutto se abbiamo iniziato adesso a cambiare alimentazione quindi non dobbiamo fare le cose che facevamo di solito e soprattutto non vogliamo arrivare a cena straaffamati, aprire il frigo e acchiappare quelle 3-4 cose che ci vengono davanti quindi mangiare magari poco, mangiare male alimenti scorretti che non ci nutrono e poi magari ci viene anche subito fame quindi avere un po' di organizzazione mentale è sicuramente una cosa molto utile e io oserei dire quasi fondamentale di conseguenza al menù settimanale se noi poi andiamo a leggere quelli che saranno i pasti della settimana riusciamo anche a fare una lista della spesa più organizzata in questo modo andiamo a comprare tutto quello che ci servirà durante la settimana senza comprare cose in eccesso che magari ci possono anche andare a male in frigo e né cose né meno cose che magari ci troviamo il giovedì in mezzo alla settimana non c'ho più niente in frigo quindi devo andare a fare la spesa altre perdite di tempo invece così siamo super organizzati prossimo punto non abbiate paura di essere troppo golosi una cosa che mi viene detta spessissimo anche dai miei amici io non ce la farei mai a mangiare sano perché mi piace troppo il cibo perché sono troppo golosa perché mi piace troppo quello mi piace troppo quell'altro non pensate che mangiare sano iniziare a cambiare alimentazione iniziare a mangiare alimenti più sani significhi automaticamente non mangiare più le golosità ci sono tantissimi alimenti super golosi tantissime ricette super golose che sono altrettanto sane del resto noi ci abbiamo costruito tutto quanto il canale non a caso si chiama il goloso mangiare sano proprio perché ci sono tantissimi modi di cucinare di preparare gli alimenti in modo davvero goloso quindi non vi preoccupate anche perché penso ai dolci che sono una cosa che fa ingolosire un po' più persone si possono comunque fare in maniera un po' più leggera in maniera un po' più sana però sempre altrettanto golosa sul canale trovate non un sacco di ricette perché tutte le nostre ricette sono basate su questo principio altrimenti non le avremo caricate non le avremo mai neanche mangiate quindi vi potete davvero fare un'idea di quante cose si possono fare senza utilizzare alimenti sbagliati prossimo consiglio anche se non è propriamente un consiglio però è una cosa che mi sento di dire è quello del non esagerare quando noi vi parliamo di alimentazione di dieta non intesa dieta restrittiva ma proprio dieta sul che cosa mangio io durante la mia vita ci teniamo a dirvi che il cibo il mangiare deve essere una cosa che fa bene al nostro corpo fa bene alla nostra mente quindi non abbiate paura che se ogni tanto mangiate un alimento poco sano ad esempio che ne so vi hanno invitato i vostri amici a un giro pizza non pensate che quella pizza vi può fare male perché una volta ogni tanto non succede assolutamente niente e ci fa bene anche psicologicamente uno sgarro ogni tanto ci vuole quindi andate davvero tranquilli prendete la sana alimentazione come una cosa da fare per noi stessi non per dimagrire non per altre cose ma per nutrire il nostro corpo come ci svegliamo la mattina ci piace truccarci ci piace vestirci bene dobbiamo anche imparare a considerare l'alimentazione come un gesto d'amore verso noi stessi quindi non deve assolutamente essere una schiavitù questo è molto importante perciò se ogni tanto ci sta uno sgarro andate assolutamente tranquilli perché la nostra alimentazione sarà sana durante la nostra quotidianità quindi quello sgarro sarà una cosa molto ristretta e sarà una volta ogni tanto ultima cosa che voglio dirvi prima di salutarvi è quello di individuare i pasti che non vanno bene può essere la colazione può essere lo spuntino che ne so magari lo spuntino fate proprio difficoltà a farlo bene vi tocca sempre mangiare una merendina insomma cercate di individuare il momento della giornata il pasto nella giornata in cui avete più problemi e cercate di sostituirlo potete anche fare una ricerca su internet su spuntini sani quindi una serie di ricettine ve le potete scrivere e utilizzarle a rotazione durante la settimana oppure se volete potete lasciarci un commento e vi possiamo aiutare insieme a capire come sostituire quel pasto problematico io spero tanto che questo video vi sia stato utile questo video di buoni propositi e vi mando un grossissimo bacio noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video e tante altre ricette ciao ciao